buongiorno ragazze buongiorno ragazzi questo è un video di comunicazioni ho deciso visto che vi è piaciuta la live o almeno spero molte di voi mi hanno chiesto quando sarà in programma la prossima allora visto i miei 1200 impegni mi ero scordata di dirvi una cosa fondamentale vi ho fatto un regalo anche io me lo sono fatto siete pronti? abbiamo comprato la cam in hd io l'ho provata e diciamo che ha una risoluzione migliore di quella del computer l'ho comprata perchè ho deciso di fare un appuntamento fisso con le live spero appunto che questo vi piaccia e che molte di voi possano partecipare ad ogni appuntamento cosa ho detto? non lo so ma sono le 9 di mattina quindi scusatemi allora riassumendo ho deciso di fare una live con scadenza settimanale visto che il grande fratello è finito quell'altro è finito insomma calma piatta diciamo che giovedì potrebbe andare bene come giorno sia per me che spero per voi l'orario sarà alle 9 quindi giovedì alle 9 lo sapete poi non dite ma non lo sapevo non mi avevi avvertito giovedì alle 9 si farà la live ogni settimana quindi se magari giovedì siete state impegnate siete andate a cena fuori o siete uscite sapete che giovedì prossimo oh oh sapete che giovedì prossimo insomma io sarò di nuovo con la live e parteciperà Gerardo se non ci sono partite e la piccola Alice quindi sono tanto contenta perché a me le live piacciono tantissimo anche se siete tante e quindi non riesco a leggere i messaggi ma ci divertiremo molto quindi voi il giovedì andate sul mio canale e vedrete la diretta mi raccomando scrivetemi commentate parliamo cazzeggiamo eccetera eccetera mi raccomando non mi deludere non le deludere soprattutto speriamo di essere molto più nitidi e molto più fluidi niente questo era veramente un video flash 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 quindi vi aspetto la prima live andrà in onda giovedì prossimo ovvero oddio che giorno è l'8 l'8 dicembre ma si dai si si dai l'8 dicembre andrà in onda la prima live con la famiglia Geruglia Alice cercherò di mettere appunto il link diretto sui vari social come facebook e instagram siete sempre informate e mi raccomando volevo anche dirvi che molte di voi spesso non vengono allertate come si dice informate dei nuovi video perché appunto c'è una campanella che voi dovete attivare che significa attiva notifiche oddio attiva notifiche quindi se quella campanella è spenta voi non saprete mai quando carico video e poi non vi lamentate quindi ora vi faccio vedere un piccolo tutorial su come si fa è facilissimo serve il tutorial però insomma ve lo faccio vedere così stiamo sicure ok quindi io vi saluto con la mia nuova cam super potente cam e buona giornata ciao mi raccomando non ve la perdete partecipate in tante ciao